Lo definiscono l'ennesimo tsunami che strattava volgendo l'azienda che rischia di generare ulteriori fibrillazioni nei vertici aziendali con ripercussioni negative sia sui bilanci che sul patrimonio umano e di competenze. Scendono in piazza anche a vari lavoratori della team dell'Indotto che da mesi attendono risposte sul futuro dell'azienda. In tutto nella nostra regione sarebbero 4.000 le professionalità coinvolte. Sul piatto il progetto della rete unica di nuova generazione che doveva rappresentare il futuro per la team. Ma che invece, stando a quanto denunciano i confederati, sembrerebbe si possa realizzare solo passando per lo smembramento dell'azienda, indebolendo l'intero sistema delle TLC. Una scelta ritenuta non garantista per i lavoratori, poco lungimirante e di scarsa tenuta. Il rischio peraltro non è quello di valorizzarla ma di spacchettarla mettendo al centro il profitto e non la valorizzazione del sistema, non le professionalità dei lavoratori. E quindi per questo noi stiamo protestando e manifestando perché si attivi immediatamente una discussione seria su questo tema. Non possono dimenticare o addirittura non ricordare quello che è stato fatto durante il periodo dell'isolamento e della solitudine pandemica. I lavoratori delle TLC, tutti, non solo quelli di Telecom, hanno reso possibile diminuire le distanze. Si creerebbero due situazioni indipendenti, una probabilmente un po' più garantita ma non è detto e soprattutto l'azienda, quella cosiddetta dei servizi, dove in qualche maniera sarà più operativa sul mercato e comunque è numericamente imponente.